Preso da Sassari che con un giocatore come lui intanto Spissu da tre punti, alza la mano, intanto Trieste cerca il primo canestro, non lo trova ma subito il contropiede di Sassari che corre bene il campo, Marco Spissu altri due punti, 11-0. L'azione di Doyle che va dentro ancora da Delia, brutta palla persa e allora Barnell dall'altra parte Spissu con un sacco di spazio, meno 7, la scuola di Dalmasson, Benjus, apre per Barnell che non se la sente di tirare, se la sente invece Spissu, 3 e forse più 1. E ora Bilan, vada Spissu, vediamo cosa si inventa questa cosa, questa volta Marco Spissu si inventa un passo di tiro di Navarriana memoria. Bilan aspetta Benjus, treccia russa praticamente sui tre punti e poi, manco a dirlo, tripla di Spissu. Spissu aspetta il blocco di Bilan, si butta dentro, alza la parabola con la mano destra, rientra la difesa di Trieste, poi Spissu aspetta il movimento della difesa e dei compagni. 21esimo punto per Marco Spissu, porto il suo tiro, allora contropiede immediato di Sassari, Benjus che va a servire Spissu, 23esimo punto. Spissu, step back di Spissu che segna ancora e questa volta raggiunge il suo cari dai, ma ce la fa, Spissu avesse tiro da 3 punti, segna anche questa e fate 28 per quei punti di Marco Spissu che ora sta veramente esagerando.